Una volta al cospetto del maestro tu avresti voluto scappare, ma io, emozionatissima, ho detto, buongiorno maestro, sono Renata Teballi, vengo da Parma, ho studiato con la signora Carmen Melis e le porto l'Ave Maria dell'Otello. L'Ave Maria dell'Otello? Ma la cantano tutte? Fortunatamente non ci siamo lasciate intimidire e abbiamo iniziato a cantare. L'Ave Maria dell'Otello? Ma la cantano tutte? 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 Grazie.